C'è bisogno di ragazzi motivati, ragazzi che hanno voglia di dimostrare tutte le loro qualità, di mettersi a disposizione del gruppo, di far diventare questo gruppo una squadra perché è l'obiettivo prioritario che ci siamo dati. Condivisa l'idea che c'è la base, provare a fare bene in una piazza difficile che viene da un po' di difficoltà. Abbiamo voglia di riportare entusiasmo, come abbiamo detto, non abbiamo voglia di farlo con le promesse o con le illusioni, abbiamo voglia di farlo con tanto lavoro e questo è il messaggio che ho trasmesso ai ragazzi. Mi piacerebbe che i ragazzi si divertissero giocando, sapendo quali sono le grandissime responsabilità che abbiamo. Quindi con queste basi proveremo poi a ricreare entusiasmo, a riportare la passione e la voglia che c'è in questa città di voler fare qualcosa di bello. Abbiamo tanta voglia di lavorare per alzare la nostra condizione perché mi piacerà avere a disposizione una squadra che abbia tanta voglia di correre, per avere voglia di correre bisogna avere energie per farlo e per alzare anche il livello di organizzazione perché ci conosciamo poco, perché ci sono tanti ragazzi nuovi, perché abbiamo bisogno di farlo e abbiamo tanta voglia di farlo.